Buonasera e bentrovati in Affinity Dog. Una mia cliente mi ha chiesto se il cappottino per un cane di piccola taglia e a pelo raso sia necessario. Le risposte possono essere molte ma io credo che dipenda dalla situazione e dal cane del quale si sta parlando. Generalmente il pelo del cane e la sua conformazione fisica sono adatte alle temperature e alla sua protezione. Sicuramente il cappottino può essere usato per proteggere il pelo del cane durante un giorno di pioggia o dalla neve. È anche giusto ricordare però che il cane è un animale sociale ed un comunicatore e il pelo è proprio una parte del corpo che serve nella interazione con i suoi simili. Un cane che comunica in area cani con indosso il cappottino può incorrere in problemi di comunicazione. Il consiglio che vi posso dare è di usarlo dove strettamente è necessario. Vi ringrazio per averci seguito e contattateci via mail e seguiteci sui nostri canali social.